Cambiamenti in vista all'IMS di Belluno dal 3 febbraio infatti inizierà il periodo di sperimentazione del nuovo sistema di prenotazione obbligatoria per l'accesso agli sportelli fisici dell'istituto. Sarà possibile prenotare il giorno e la fascia oraria di preferenza attraverso un numero telefonico oppure via internet. Presso le sedi rimarrà a disposizione del cittadino lo sportello veloce per lo smaltimento delle pratiche più leggere, libero da prenotazioni, ma l'obiettivo a lungo termine sarà quello di snellire e ottimizzare sempre più l'accesso ai servizi offerti dall'IMS. La prenotazione è ovviamente la dedicazione di un orario in una giornata all'interno della settimana nella quale il cittadino potrà scegliere quando accedere allo sportello fisico dell'istituto, di tutte quante le unità produttive dell'istituto della provincia. Le persone anziane e chiunque non abbia ancora caricato la app, non abbia ancora confidenza con questo sistema, verrà assistito dal personale di sala che interpreterà qualsiasi tipo di necessità e di bisogno segnalato. Attualmente la media giornaliera degli accessi all'istituto di previdenza sociale della provincia ammonta a 65 con all'incirca 20 minuti di attesa ciascuno. Il nuovo sistema, già attivo a Vicenza, Venezia, Treviso e Rovigo, si prefigge proprio di abbattere questi tempi morti. La finalità è quella di ridurre i tempi di attesa in sala e anche la comodità di prenotare l'orario che potrebbe essere più consono all'attività privata del cittadino. Nelle città dove già qualche mese che sperimentano questo accesso con prenotazione dicono che i cittadini sono contenti, che le sale si stanno organizzando con un flusso più fluido, il tempo dedicato allo sportello è in un ambiente più sereno e pare che la cittadinanza sia contenta.